Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale Queen Vlogs, oggi sono qui per portarvi un nuovo video su Call of Duty Black Ops 3 Oggi sono qui con l'account del buon Isaac che saluto tantissimo e ringrazio perché ha raccolto il mio appello di un disperato che appunto ha speso 80€ senza trovare nulla E mi ha quindi offerto il suo santo account per andare a provare insieme a voi quello che è il Galil, nuova arma di Call of Duty Black Ops 3 Nonché il remake del famoso Galil di Black Ops 1 che sinceramente a me subito uno piaceva ma che è qui Ora comunque ve ne parlerò per bene, intanto saluto tutta Sambriccio sotto richiesta di Isaac che mi ha detto appunto di salutare tutta Sambriccio Che sinceramente non so se è una località, non ho idea, fatto sta che la salutiamo ad ogni modo Oggi siamo qui per provare appunto questo Galil che veramente mi ha deluso in una maniera incredibile ragazzi Veramente non avete idea quanto quest'arma mi abbia deluso e ora vi spiegherò perché mi ha deluso Quindi cerco una partita e vi parlo un po' di quest'arma che chiaramente io ho già provato in diverse partite perché ero incredulo Cioè la utilizzavo e speravo in qualcosa di meglio che saltasse fuori qualcosa invece nulla Comunque adesso cerco una partita e ve ne parlo per bene Ok ragazzi sono in una lobby e vi parlo appunto di quest'arma Vi dicevo che è un'arma che mi ha deluso abbastanza rispetto a quello che mi aspettavo Cioè io mi aspettavo un'arma al livello del vecchio Galil Invece ho trovato un'arma che a parer mio è inferiore alle armi presenti in tutto il gioco Cioè è un'arma che secondo me è sotto la media Perché questo? Per molteplici motivi Tanti motivi che secondo me non è facile percepire guardando il video Ma che provandola dopo diverse partite si iniziano a percepire Primo tra tutti la lentezza dell'arma Ho notato quest'arma veramente lenta, lenta, lenta Ma veramente tanto per essere fucile d'assalto Ha diversi aspetti molto lenti Prima di tutto la ricarica La ricarica è lentissima Tanto che sono costretto, come vedete appunto dalla classe A utilizzare caricatori rapidi Cosa che io non uso mai perché non ne sento il bisogno Ma che in questo caso veramente mi vedo costretto a utilizzare Perché l'arma ricarica molto lentamente Inoltre ha una specie di bug nella ricarica Che in pratica molte volte ti annulla la ricarica Se scatti dopo aver ricaricato Cioè in pratica se tu fai fare la ricarica all'arma E poi fai uno scattino non appena l'animazione è finita La ricarica si annulla Questo perché l'animazione in realtà Cioè il tempo di ricarica è più lungo dell'animazione in sé Quindi devi aspettare un po' di tempo dopo aver ricaricato Per fare dei movimenti come lo scatto Come il cambio arma Ma se no ti annulla appunto la ricarica E questo è un grosso problema perché comunque c'è Tu quando stai in pratica non è che puoi stare lì ad aspettare Un po' di tempo dopo la rigare Ecco Questa comunque è una cosa a parte che ho notato io E che sinceramente mi dà molto fastidio Ma non lo considero un problema È una specie di cazzatina Ma che comunque si va a sommare Dicevo l'arma è molto lenta a ricaricare Ma soprattutto è molto lenta a mirare Infatti come vedete non sto usando mirino Che solitamente avrei utilizzato Perché chiaramente senza mirino l'arma è leggermente più veloce Con estrazione rapida poi risulta diciamo utilizzabile Ma in linea di massima Vi assicuro che utilizzandola si percepisce proprio la pesantezza di quest'arma Cosa molto fastidiosa è il movimento del mirino Quando si va a saltare Come vedete sembra quasi di gomma C'è una cosa che non rimane ferma Si muove tantissimo E molte volte vi assicuro Che vi fa perdere dei gunfight Perché perdete di vista il bersaglio Ora magari non vi sembra nemmeno Ma vi assicuro che dopo diverse partite Questo è quello che ho percepito Che l'arma in sé ha un movimento molto molto instabile E molte volte vi porta a perdere dei gunfight Appunto perché muovendovi Saltandovi Saltando eccetera Perdete di vista il bersaglio Oltretutto l'arma ha un rato di fuoco abbastanza medio Cioè non ha un rato alto Di conseguenza non ha niente in più delle altre armi Come non ha più danno Come non ha una portata maggiore Insomma è un'arma media Per quanto riguarda le statistiche Quindi i problemi sono tutti riguardo La lentezza che vi portano a perdere tantissimi gunfight Da vicino vi assicuro veramente tanti 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 E allo stesso tempo ha anche una precisione abbastanza scadente Infatti il rinculo è qualcosa di strano Visto così non vi potrà dire nulla Ma è un rinculo laterale quasi Che molte volte vi assicuro che vi porta ad avere i colpi che non entrano Ma veramente tante volte Questo dalle lunghe distanze Quindi anche dalle lunghe distanze Molte volte contro i fucili d'assalto si va a morire Inoltre c'è un hit detection un po' strano Cioè i colpi molte volte tendono a non entrare E non è un problema di connessione Perché ho fatto diverse Molte molte partite ve lo assicuro Per vedere effettivamente quale fosse il problema E vi assicuro Guardate questo è quello che vi dicevo per la rigarca E molte volte Va bene bel gunfight questo qua Dicevo e molte volte Stiamo proprio i colpi che non entrano Vi assicuro che non entrano Non c'entra un cazzo la connessione E' proprio un problema di arma Vedete anche qui ho sparato tantissimi colpi raga Quanti effettivamente ne sono entrati? Pochissimi Cioè Dicevo E' proprio un problema dell'arma che E' strana E' molto strana Questo capita soprattutto dalle lunghe distanze Quando sparte alcuno da lontano E magari questo si sta muovendo Avete proprio l'impressione che i colpi non entrino Tutto ciò sommato al fatto che l'arma non spara molto velocemente Che ha un movimento un po' strano del mirino quando saltate Che non ha un grosso danno eccetera Vi porta tantissime volte a morire Veramente è un'arma che secondo me suca sia da lontano che da vicino contro tutte le armi E' un'arma proprio inferiore alla media E non ve lo dico perché Non lo so perché ve lo dovrei dire Non lo so nemmeno io perché ve lo dovrei dire Io e questo è quello che sto percependo utilizzando Ho fatto tante pareti perché veramente Pensavo di essere io un po' fuori Fuori allenamento Ho detto minchia magari sono io che sto sparando un po' di merda Ma effettivamente Proprio l'arma che secondo me non è a livello delle altre armi Cioè in un gioco dove abbiamo un M8 che da lontano è precisissimo E squaglia completamente Abbiamo mitragliette che da vicino ti squagliano Ho anche fucili d'assalto che da vicino stesso ti squagliano Un M8 ti squaglia da vicino Un HVK da vicino ti squaglia Abbiamo armi veramente forti sotto ogni aspetto Un'arma di questo tipo che sia da lontano che da vicino Non dà niente di più delle altre Per me è un'arma inferiore alla media molto semplicemente Non mi dà nulla In più ripeto c'è questa stronzata della mira che si muove un botto Adesso magari neanche tanto perché sto facendo principalmente gunfight per terra O comunque o contro persone che non saltano tanto Quando avete persone contro che saltano siete costretti a saltare molte volte E quindi veramente vi rendete conto di quanto muovere la mira sia veramente difficile Boh è un'arma che secondo me non è all'altezza delle altre Tutto qui Oddio Eh vedete questa la cosa cazzo che odio Mio dio come sto sparando Ok Boh ripeto magari vedendola così vi potrà sembrare un'arma normale Ma sto giocando un TCT contro delle persone abbastanza normali Sinceramente non ho nessun avversario particolarmente forte Non ci sono situazioni difficili Insomma è una partita abbastanza scialabriamente a stare facendo il suo risultato anche con la pistola Quindi non fatevi ingannare dal fatto che comunque la partita la sto vincendo Io vi assicuro che dopo diverse partite Quello che ho notato è questo Che l'arma veramente non mi dà minimamente sicurezza e non la userei mai probabilmente Se ce l'avessi veramente mai perché non mi dice nulla in più delle altre Anzi è soltanto handicap rispetto alle altre Adesso portiamocela a casa perché non mi va di perdere con l'account del ragazzo Anche perché qualcuna l'ho persa e raga prima ho trovato dei lobby normali E ho fatto fatica magari un paio le vincevo un paio le perdevo Facevo proprio fatica a giocare con quest'arma perché Ci sono state una serie di gunfight che ho perso da vicino da lontano Contro persone che usavano magari l'M8 il WMP e quindi in situazioni normali mi distruggevano Mi distruggevano pesantemente Ma veramente tanto raga eh Quindi boh Oddio il coso no No affanculo Due guerre raga Dunque boh aspetto i vostri pareri come sempre Siete voi che alla fine vi dovete dire Cosa ne pensate Io il mio parere ve l'ho dato non cambio idea Anzi ho avuto abbastanza tempo per cambiare idea Ho fatto tante partite Però a quanto pare non è una questione di Di qualche partita È proprio una questione che per me quest'arma è così e basta Adesso facciamoci sta ultima kill Oddio Va bene raga Io aspetto i vostri commenti Ditemi cosa ne pensate Inite a lasciare come sempre un like Ringrazio ancora il buon Isaac Per avermi prestato l'account E ci becchiamo alla prossima Bella raga Grazie a tutti 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 Grazie a tutti